Giovani buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neavolis 1926 primo video di giornata ragazzi alle ore 18 come sapete ne uscirà un altro ma se volete rimanere sempre aggiornati vi dovete iscrivere al canale e attivare la campanellina perché se non attivate la campanellina ragazzi si va male la campanellina è importante come quando andavate a scuola quando suonava la campanellina perché ve ne tornavate a casa eravate felici quindi attivate la campanellina così siete felici quando arriva un video di Neavolis 1926 detto questo ragazzi ieri chi sperava in un passo falso sia del Milan e sia dell'Inter ragazzi ha avuto la brutta sorpresa perché l'Inter ha vinto 3 a 1 contro lo Spezia ma era normale ragazzi che l'Inter vincesse contro lo Spezia io non è che nutrivo grosse speranze nella sconfitta o nel pareggio dello Spezia sono veramente sincero anzi lo Spezia secondo me andrà in serie B vedete un po' detto questo poi c'è stata la partita del Milan ragazzi Milan Genova figuratevi se il Genova poteva fermare il Milan visto che arrivava da due pareggi di fila e niente ragazzi questo è stato l'Inter praticamente ha dominato con lo Spezia il Milan idem le due milanesi ragazzi non si fermeranno più secondo me ora poi dobbiamo vedere il calendario ma io già l'ho detto come si concluderà questo questo campionato con l'Inter davanti a tutte ragazzi il Napoli lo scudetto l'ha perso in casa diciamoci la verità perché lui ha perso in casa con l'Empoli con lo Spezia l'Empoli addirittura che l'ultima vittoria che ha fatto l'Empoli in campionato è stata proprio contro il Napoli allo staglio Diego Armando Maradona poi tutti paregge e tutte sconfitte noi siamo un po' quelli che fanno salvare quegli altri ora nel prossimo turno ci sarà Empoli-Napoli Empoli-Napoli indovinate un po' come andrà a finire con vittoria 1-0 risicata per l'Empoli contro il Napoli ve lo segno e ve lo sottoscrivo qui sotto ragazzi detto questo oggi parleremo un po' del video di avvicinamento fra Napoli e Roma chi ci arriva meglio, chi ci arriva peggio quindi non lo so è stata una mazzata sinceramente queste due vittorie sia del Milan sia dell'Inter speravo in un passo falso io sono sincero ma ragazzi come fai a pretendere un altro passo falso da quell'altro dove tu passi falsi ne dovevi compiere pochissimi di passi falsi e ne ha compiuti tantissimi diciamoci la verità Napoli ne ha compiuti troppi e a volte gli è andata anche bene perché tu guarda la sconfitta contro la Fiorentina il Milan appareggiata poteva vincere benissimo contro il Torino l'Inter come sappiamo ha avuto un mese e mezzo di appannamento ora con il calendario dalla loro parte perché non hanno scontri diretti non hanno squadroni hanno tutte squadre che oramai sono tutte salve quindi non si giocano niente capito? l'unica squadra che devono affrontare è il Cagliari ma il Cagliari ragazzi bene o male io penso che si salverà non ne ho dubbi su questa cosa però ragazzi io ve l'ho detto l'ho scudetto il Napoli l'ha perso in casa ora non andiamo tanto a cercare l'Inter la partita con il Bologna che deve recuperare sì la recupererà e andrà a più 3 a più 2 a quante cavolo andrà l'Inter ora non mi ricordo comunque fatto sta che va a più 3 perché noi siamo a meno 2 ora attualmente più 5 noi sì noi siamo dovrebbe andare a più 3 l'Inter dal Napoli è difficile che faccia un altro passo falso l'Inter ragazzi poi gli sono tornati tutti è tornato Brozovic e in effetti si è visto perché vai un se tu all'Inter gli togli Brozovic togli il 60% di tattica offensiva a quest'Inter perché voi dovete capire una cosa che gli attaccanti se non sono serviti bene non segnano fatto sta che Ozyman se tu lo servi tutte le volte uno contro uno su 20 lanci e ne fai 10 precisi è normale che quello deve sfruttare l'occasione ma tanto oramai hanno capito come gioca Ozyman come gioca il Napoli e quindi questa è la cosa difficile ragazzi da far capire a Spalletti e da far capire ai ragazzi c'è stata il Milan ragazzi sinceramente non è che mi faccia tanta paura sono sincero però sono quelle squadre che come detto quando in Napoli si giocava lo scudetto contro la Juventus quello dei 91 punti c'è sempre una squadra che tu dici questo è l'anno giusto è sempre una squadra che deve dare di più è una cosa allucinante non so come mai non so veramente come mai è allucinante sembra che il Napoli abbia la seccia addosso proprio la sfiga addosso nel dire no no tu lo scudetto non lo devi vincere faremo fare 100 punti all'Inter oppure 20-10 punti in più a te 2 punti in più a te cioè Ozyman è una cosa scocciante straziante come cosa che sono sincero quindi le Milani si vincono ora dobbiamo vedere la Juventus ragazzi ma figurati se la Juventus oggi non vince 2-3-0 contro il Bologna figuriamoci spero nel Bologna faccia una buona prestazione almeno un pari si porti a casa un pareggio ma io la vedo veramente difficile poi c'è l'Atalanta l'Atalanta che è reduce dalla brutta sconfitta per 2-0 contro l'Ipsia e sappiamo tutti che Gasperini in un momento no della sua carriera rischia addirittura di non entrare in Champions League anzi se non entra in Champions League l'Atalanta è costretta a vendere i suoi pezzi pregiati Zapata Muriel e altri giocatori Gasperini sembra essere arrivato all'ultima stagione lì a Bergamo ora poi bisogna vedere la società la società nuova quindi vediamo su chi puntano però ragazzi io penso che il ciclo Gasperini è meno male io dico perché è molto è andata molto a culo a Gasperini diciamoci la verità il ciclo Gasperini a Bergamo sia quasi finito ora poi ci sta che mi smentisca da qui a fine campionato faranno solo vittorie e rientrano al quarto posto a posto della Juventus me lo auguro di buttare fuori la Juventus visto che si sta per comprare Mbappé a parte le stronzate vi ringrazio veramente tanto perché il video di ieri su Mbappé è andato veramente bene e questa cosa io devo capire un po' come funziona questa cosa di Youtube gli argomenti da portare ci devo stare più dietro sinceramente ragazzi portare due video al giorno però ragazzi è dura non è dura fisicamente è dura trovare argomenti quando argomenti non ce ne sono devi andare a cercare il dettaglio per fare video avete capito che vi voglio dire e niente questo era un video per parlare proprio dell'Inter e del Milan di ieri sera chi sperava in un passo falso da parte di queste due squadre ragazzi è stato ampiamente smentito io avrei giocato la vittoria comunque del Milan e dell'Inter ieri sera sono sincero perché l'Inter come detto da qui a fine campionato ha solo squadre che sono già salve e non lottano per niente va bene quindi è inutile dire l'Inter di qua l'Inter vincerà lo scudetto a mano in basso e mi dispiace dirlo ma è così e mi dispiace dirlo perché il Napoli quest'anno aveva una grandissima opportunità con la Juventus fuori dai giochi con una Tavanta fuori dai giochi e tu te la giocavi veramente tu quest'anno quest'anno hai perso l'opportunità di portare a Napoli il terzo scudetto e arriverà arriverà prima o poi e me lo auguro per quel tifoso che ha chiamato Alvino in diretta e ha detto prima di morire vorrei vedere un ultimo scudetto del Napoli questa cosa mi ha fatto mi ha messo tristezza perché tu vedi la gente che ci ha creduto fino in fondo quest'anno e i giocatori non hanno ripagato questa fiducia nei tifosi ora ci vediamo oggi pomeriggio per l'avvicinamento a Napoli Roma ragazzi e che dire sempre e comunque forza Napoli dal vostro Napolis 1926 eppure quest'anno lo scudetto si vince l'anno prossimo e che ci vuoi fare a l'anno prossimo l'anno prossimo Grazie a tutti.